... ... ... ... No! Sono i vecchi allievi per l'anno scorso! Non so veramente... Come? Hanno superato il corso! Bonsa! Imbravi! Vazietatemi! Signore! Signore! Al rapporto è sempre pronto! Deve sta portando! Con tutta qualcosa da l'arte! MAURE! MA VORI! MA VORI! SINGLE! E' un segno di usente! Non si sente bene la sua voce? Vero? MAURE! METE! D'O DIO! Un... L'incaricò da un caderno da presentarvi! MAURE! MAURE! T'ho spiegato il funzionamento del massimo oggi! Sì, signale! La signale propena subito!